La seduta Commissione Affari Generali per la discussione della modifica dello statuto relativa ai consiglieri delegati riaccende a teramo i toni tra maggioranza e opposizione. Si altera così il primo cittadino che, esasperato, invita tutti i presenti a smetterla di strumentalizzare. Facciamo ridere, facciamo ridere, mi spetto pure io, ma davvero? Ma davvero voi pensate che la guadratura di una maggioranza si basa su un consigliere del redatto? Ma davvero pensate a me? Ho fatto un'apertura all'opposizione, ho detto bene, visto che la revisione del regolamento è pronta per il 95%, lavoriamo incessantemente, due o tre giorni a settimana, convocando la Commissione e entro la fine di luglio, ho dato una scadenza ben precisa, andiamo in Consiglio Comunale per approvare all'unanimità, ovviamente, il nuovo regolamento e il nuovo statuto. E sai perché ho sottolineato all'unanimità? Perché oramai sono abituato da questa opposizione al gioco delle tre carte, cioè presentano gli emendamenti, li votano, noi li accogliamo e poi quando bisogna fare il provvedimento finale votano no. Noi chiediamo di sederci al tavolino, di rivedere complessivamente il statuto, è un regolamento che è fermo da cinque anni, sono cinque anni che il regolamento comunale è fermo in questa Commissione, l'amministrazione non lo ha mai portato per approvarlo in via definitiva e poi ha tentato questa fuga in avanti, questa fuga in avanti relativa ai consiglieri delegati di cui non si era mai parlato in questo Consiglio Comunale, se ne è parlato solo e esclusivamente a seguito del tavolo politico che ha determinato la crisi di questa giunta e quindi sarebbe stata soltanto una appendice alla risoluzione della crisi di questa giunta. Interviene come fosse uno spettatore esterno il consigliere Gianluca Pomante. Appena entrano le telecamere si alterano tutti e hanno tutti qualcosa da dire, mentre la Commissione fino a quel momento era stata assolutamente tranquilla. Quindi che il nuovo teatro comunale si sia spostato effettivamente nella sala consigliare è un dato di fatto. Sulle modifiche allo statuto il sindaco ha gli stessi problemi del nostro premier, cioè pretende di modificare una carta importante come lo statuto, il premier la carta costituzionale, senza avere l'unanimità. Chiede l'unanimità però poi non è disposto al dialogo con la minoranza. Pretende una garanzia sul voto senza però consentirci di discutere.